Il bentornato negli studi Temporadio al titolare dell'Emporio Sigurtà di Via Rassica, Lonato del Garda e Via Rassica, quella via che congiunge Lonato a Castiglione passando per Esenta. Di nuovo con noi Germano Sigurtà, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Temporadio e possiamo tranquillamente esordire augurando una buona festa della donna a tutte le nostre ascoltatrici, anche se comunque il rispetto per la donna deve essere 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, ma comunque certe cose è bene ricordarle anche in queste giornate o rimarcarle perlomeno. 366 in quelli bisestili. Mi sfuggiva questo dettaglio. Allora, io ho fatto il militare in anno bisestile, quindi non lo so, è un giorno in più. Allora, dunque, bentornato a Germano Sigurtà, ricordiamo una delle tante coordinate per interagire con noi, il numero per mandare sms e messaggi whatsapp è il 338 17 19 105. Allora, come di consueto, facciamo un po' quello che noi chiamiamo bollettino meteo, che non sono le previsioni meteo, ma come comportarsi col proprio verde, col giardino, col prato, con le piante, in base alle condizioni meteorologiche. Diciamo che si può praticamente dire che ormai la stagione è già alle porte, mancano pochi giorni, le temperature, come vedete, sono quasi primaverili, soprattutto durante il giorno. Un po' di cautela nel portare fuori i vasi, limoni e compagnia varia da casa, perché comunque qualche gelata notturna può ancora arrivare, anzi, è probabile. Per cui, teniamo dentro le nostre piante, lasciamole ancora coperte temporaneamente, se proprio sono all'esterno, scoprirle per qualche ora durante il giorno, perché a 17 gradi comunque il sole picchia, ve ne accorgete poi quando salite nelle vostre macchine che il caldo c'è, che quello fa da serra. Per quanto riguarda trattamenti alle piante, assolutamente sì, fungicidi preventivi per quanto riguarda le varie malattie, soprattutto per quanto riguarda i fruttiferi. Per quanto riguarda le potature, siamo al limite su alcune piante, appunto nei fruttiferi, per gli olivi tranquillamente abbiamo ancora parecchio tempo, siepi e compagnia varia si possono ancora comunque potare. Per quanto riguarda le concimazioni, siamo in anticipo, nonostante una stagione molto asciutta, quindi poco di lavamento, ma nello stesso tempo abbiamo prati brutti da vedere, perché effettivamente sono tutti sul giallo andante. Quindi una leggera concimazione, pre-concimazione la possiamo definire anche con del ferro, in maniera da rendere un po' più verdi, un po' più piacevoli agli occhi, soprattutto pensando alla Pasqua, che sinceramente quest'anno non ho idea di quanto sia di preciso, ma non dovrebbe essere lontano. Quindi normalmente piace avere il giardino verde per poi fare barbecue e viverlo nei momenti di festa, tipo Pasquetta. Vi ricordo che noi abbiamo un vasto assortimento di attrezzatura per potatura, dal prodotto semiprofessionale, come lo definisco io, al prodotto professionale, alla sega, i paletelescopici, i forbici telescopiche, troncarami e via dicendo, con tutti i relativi ricambi. E da lì anche l'assistenza sugli stessi. Non taglia, cambia la controlama, il ricambio per la forbice, la filatura della forbice, la filatura della catena alla motosega e compagno a varia, fa parte anche del nostro lavoro quotidiano praticamente. Diciamo che per quanto riguarda i trapianti, sicuramente siamo ancora in tempo, quindi trapiantare rose e via dicendo, la solita modalità del trapianto, la buca più larga, terriccio specifico per la pianta, se c'è uno stimolatore radicale tanto meglio, in maniera che poi la pianta quando riparte trovi tutto quello che gli serve e tantomeno ristagni d'acqua al piede della pianta. Comunque conviene chiedere a chi ne sa, come lei, perché ogni pianta, per esempio io so che l'azzalea ha bisogno, se non mi sbaglio, di terreno acido, la rosa di meno. Esattamente, quello fa parte dell'acidofile, rodendri, camelli, azalee e via dicendo, sono t'acidofile, prediligono appunto un terreno acido proprio per loro natura e per mantenere questo tipo di terreno ci sono i terrenici specifici che si utilizzano soprattutto quando si va a piantare, ma anche poi nel tempo e con cimi appunto acidi, sia liquidi che granulari, quindi manteniamo il terreno acido per avere ottime fioriture e la crescita, diciamo, vigorosa delle nostre piante. Come curiosità, se vuole, il 16 aprile quest'anno la Pasqua? 16 aprile. Una Pasqua inoltrata? Pasqua calda, in teoria, è asciutta, speriamo, e speriamo asciutta. Allora, quindi appunto gli attrezzi in particolare, ecco, mi ha incuriosito questa assistenza specializzata perché, insomma, non conviene affidarsi, sa, magari all'ambulante arrivato, ombrellaio, a rotina, eccetera. Cioè se devi far affilare la catena, per esempio, di una motosega, è meglio affidarsi a chi lo so. Assolutamente, sì, come tutte le cose del resto, insomma, ecco, come tutte le operazioni, anche perché comunque noi abbiamo i ricambi originali, quindi andiamo a sostituire le parti e verifichiamo magari con una semplice rondella, in alcuni casi di sostituzione agli scorrimenti, andiamo a mettere a posto il troncarami o eventualmente ricostruiamo la catena per la motosega se è proprio al limite del... Veramente diamo anche un'occhiata in generale alla macchina. Facciamo anche questo tipo di cosa nella serie della serie, non è che lama e finisce lì, se balla qualcosa, se c'è qualcosa da sostituire, facciamo anche quel tipo di operazione. Anche perché sono macchine, insomma, da usare con cautela, giustamente. Quindi Emporio Sicurtà, l'assistenza, appunto, di qualità. Una piccola parentesi, perché visto che abbiamo parlato di concimazioni, da quest'anno abbiamo inserito nella nostra vasta gamma, ma lo posso dire tranquillamente senza timore di essere smentito, anche il concimere biologico. Ne abbiamo già accennato nei tempi passati, normalmente bio si pensa solo e esclusivamente a quello che è l'orto e il giardino e anche lì abbiamo proprio quelli specifici per orto, soprattutto bio. Io coltivo il mio frutto, voglio avere una produzione un po' più abbondante, perché comunque voglio raccogliere, poi alla fine mi impegno, lavoro il mio orto e voglio avere un raccolto più abbondante, più gustoso, più saporito e via dicendo. Abbiamo questa gamma di biologici, ma abbiamo anche una gamma per quanto riguarda il prato. Questa azienda francese praticamente ormai è sul mercato da, penso, 35 anni, laboratorio interno, controlla le materie prime in ingresso e in uscita, ma quello che fa la differenza sul tappeto erboso, ma poi anche di riflesso anche eventualmente sull'orto, è che questo tipo di concimere organico va a stimolare tutto il benessere generale del terreno e di conseguenza anche il benessere delle nostre piante. Benessere vuol dire pianta più robusta, pianta più attiva, ma vuol dire anche pianta più resistente alle malattie. Perché sappiamo benissimo che la pianta si ammala, lo zucchino si ammala di mal bianco, la nostra produzione crolla o addirittura arriva a zero. Noi concimando riusciamo praticamente, nell'arco anche di un paio di stagioni, si intende, non è che è una cosa miracolosa, non è una bacchetta magica, con questo tipo di concimi organici, oltre ad avere la tranquillità di dare un concime che è naturale, comunque con prodotti naturali e controllati, ma anche di avere una pianta più sana e quindi portare la produzione più avanti e evitare trattamenti. Perché poi siamo costretti a utilizzare dei trattamenti fungicidi in emergenza, perché normalmente poi si va a trattare quando serve, si perde produzione, perché poi fatto il trattamento bisogna aspettare 3, 5, 10 giorni prima di poter mangiare il nostro frutto, quindi è conto quello che ne consiglio, buttiamo via gli zucchini per 3-4 giorni, e questo tipo di concimi sono studiati e formulati anche in funzione di questo. Due numeri, questa azienda produce 70.000 tonnellate e nell'agritura francese il 70% va nella viticultura, perché proprio hanno riscontrato che riescono a fare meno trattamenti anche sulle viti, oltre a risparmiare su fitofarmaci, hanno prodotto comunque più sano e meno problemi poi nella vinificazione, e via dicendo. Quindi, ecco, sì, perché precisiamo che le piante, come gli animali, come noi anche, hanno il loro sistema immunitario, che contro i funghi, contro i batteri nocivi, addirittura contro degli insetti, addirittura sono in grado di ammettere le sostanze, per cui è una pianta sana, una pianta sana soprattutto per quanto riguarda le malattie fungine, che sono quelle che ci fanno, che rovinano la foglia, che la rendono gialla, che in alcuni casi addirittura fanno morire la pianta, o ne compromettono la vitalità durante l'anno, riusciamo, tra virgolette, a combatterle, dando del concime al terreno. Questo è un po' il messaggio che volevo far passare, ma anche dal punto di vista economico, con cifre molto contenute, voglio dire, ecco, non è un concime che costa l'ira di Dio, tra virgolette, ecco. e quindi possiamo tranquillamente affrontare il nostro orto, il nostro giardino, anche con questa prospettiva, diciamo, futura, ecco, anche per il nostro ambiente, poi alla fine, ecco. Quindi, una cosa però, sicurità, se però uno, a questo punto, ha pianta già ammalata, voi avete anche i fitofarmaci? Assolutamente sì, nell'emergenza ci sono tutti i prodotti, i fitofarmaci classici, che vendiamo ormai da una vita, già con le relative prescrizioni, le relative attenzioni, dosi e via dicendo, i periodi di utilizzo, praticamente, ecco. Per cui, ecco, eventualmente, è un po' la sicurtà anche, appunto, per utilizzo, anche perché tra l'altro mi pare che serva un patentino, diciamo così, una licenza proprio che voi avete, non tutti hanno. Allora, assolutamente sì, la licenza, nonché l'abilitazione, la vendita di fitofarmaci, esatto, è tra l'altro a mio personale, proprio legata proprio alla persona, sia l'azienda ce l'ha, ma è il sottoscritto, diciamo, che ha questa abilitazione qui, che non ha quasi nessuno, tra virgolette, tranne appunto noi rivenditori specializzati, posso escludere supermercati, posso escludere hobby, quindi tutto quello che trovate sugli scaffali della grande distribuzione, vi dicendo, sono tutti prodotti hobbystici, diluiti, che hanno delle efficacce molto ridotte e normalmente, spesso e volentieri, sono più riservati a, anzi, sono registrati per piante e non per orto, quindi anche lì un'attenzione molto importante, bisogna porre a questo lato della cosa, quello che trovate sullo scaffale, leggete bene l'etichetta, perché spesso e volentieri, il prodotto è più per il fiore, più per il gerano, quindi testato su quello, ma non è testato sull'orto, sul giardino, quindi non ci sono prodotti praticamente nella grande distribuzione, registrati, quindi sperimentati su quello che è l'orto e il giardino, quindi molta attenzione, non andate a caso, non spruzzate niente a caso sulle piante, soprattutto da cui andrete a raccogliere un frutto che poi vi mangiate, ecco, questo è una delle raccomandazioni che mi sento di darvi. Assolutamente, quindi chiedete a chi ha questa abilitazione alla vendita, che è conseguenza di un corso di studi veri e propri. Un corso esame rilasciato dall'ultima volta dall'ASL di competenza, quindi ci vogliono formati in questo senso. Luciano le chiede, a marzo mi hanno detto che ci sono delle malattie che possono colpire l'orto, cosa bisogna fare? Beh, per quanto riguarda le malattie, direi che è decisamente presto, nel senso che le malattie fungine richiedono una temperatura adeguata, un'umidità adeguata, quindi fondamentalmente. A marzo normalmente non ci sono queste prerogative, ecco, salvo che ci sia una piovosità estrema, allora si creano dei funghi a livello del terreno, però normalmente in questo periodo non ci sono interventi da fare. Però, come dicevo prima, anziché usare il classico stallatico, normalissimo, utilizziamo questo prodotto organico, bio, ma che stimola appunto la vitalità del terreno e quindi le difese immunitarie della pianta, facciamo una sorta di prevenzione già subito, andando avanti, verso aprile e maggio praticamente. Certo. La pianta di Mimosa, le chiedono, è vero che diventa grande tra metri? A me risulta anche di più, ne avevo una davanti. Sì, sì, tranquillamente. È un albero. Purtroppo, non so, è proprio un albero. Gli avevo creato la serra ad hoc perché era appoggiata a una parete e si era oltre i tre metri e mezzo la serra e sarebbe cresciuta ancora in condizioni favorevoli, quindi purtroppo ho dovuto togliere perché era attaccata la casa e le radici cominciavano a premere sulle fondamenta, a premere sulle pareti e mi hanno dovuto togliere. Cresce, cresce, tranquillamente. Benissimo. Io, dice un altro messaggio, ho le margherite in prato ma quest'anno non ci sono ancora, forse perché non l'ho concimato, punto di domanda? Ma forse semplicemente fa ancora freddo. Chiaramente la concimazione serve nel momento in cui la pianta, cioè, quando non c'è non ha nessun senso, diciamo. Poi, Riccardo le dice, scusate la domanda, ma quando muore un limone se perde le foglie può ripartire? L'unico sistema per sapere se la pianta è ancora viva è spezzare un rametto o qualche rametto per vedere se è verde all'interno. Quindi, se si spezza come spezzare, non so, un cerino, per capirci, il legno fa filamento, vuol dire che il ramo è morto e che si va avanti fin tanto che non troviamo qualcosa di vivo. Se non trovi niente, è chiaro che è morto. Viceversa, però, prima ancora di spezzare i rami, se ci sono delle gemme che si sono gonfiate, vuol dire che la pianta è ancora vitale e riparte praticamente. Questo vale per tutte le piante. Gabri dice, Germana, sicurità salve, lei riesce a procurarmi quei medicinali che messi nel cibo evitano che cani e gatti prendano le pulci? Punto di domanda. Allora, velocissimamente, questi sono prodotti, scusate, farmaci, veterinari, a esclusiva ricettazione veterinaria. Quindi, per questo tipo di prodotti dovete andare esclusivamente dal veterinario. Noi non siamo abilitati perché anche qua volessimo vendere questo tipo di medicinali veterinari dovremmo avere il farmacista in sede veterinario. Quindi, diventerebbe molto oneroso a fronte di la ricetta medica veterinario e noi farmacisti in casa. È un magazzino a sé. Sinceramente era un po' eccessiva la cosa. Dall'altra parte vi dico solo questo. è vero che è semplice, è vero che non è un collare che si perde, è vero che non dobbiamo più preoccuparci di mettere la pipetta sul collo dell'animale, ricordarci ogni 35 giorni, scusa, 25-30 giorni di rimettere la pipetta. Però tenete presente che è un prodotto che circola nel sangue. Esatto. Può essere che il cane stia benissimo per carità, va benissimo e ci sta. Però, dall'altra parte per essere efficace la pulce sale sul cane, punge il vostro animale, se ha qualche malattia addosso la trasmette, poi muore. Questi prodotti non sono anti-feeding, anti-puntura, sono prodotti sistemici, tra virgolette, che entrono in circolo, nel sangue, quindi proteggono sotto questo punto di vista. Non sono anti-feeding come vengono chiamati in inglese. Tutti gli altri prodotti, spot-on, collari, di nuova generazione che durano 7-8 mesi, prevengono, fanno da repellente nei confronti dei parassiti. Di conseguenza, il vostro cane non viene punto, non rischiamo malattie. Cane o gatto? Diciamo che anche noi collari hanno anche l'antissoffocamento. Io, per essere più tranquillo per il mio cane, preferisco che non venga punto. Piuttosto che... Certo. Questo è il messaggio che voglio far passare per questi prodotti qui e, ripeto, sono comodissimi perché piglia la pastiglietta. Adesso, sinceramente, non so quanti mesi dure perché, non essendo nostra competenza, non voglio dire diciamo delle stupidaggini, però il nocciolo è questo. Il collare che vendo, la pipetta che vendo, fa da repellente alla zanzara, fa da repellente alla pulce, fa da repellente alla zecca, i papatacci e i papatacci, sapete benissimo, che trasmettono alle smaniosi. Se il papataccio, sfortunatamente, è carico di questo virus e lo trasmette il cane, voi potete avere, morirà il papataccio perché il sangue del vostro cane contiene questo principio attivo, però vi è trasmetto alle smaniosi e per il cane non c'è speranza. direi ok, ok tutta la comodità, però per amore del cane sinceramente io starei su un prodotto che almeno tiene lontano e evita l'antifeeding. Altro messaggio, sono la Sabri Germano, quando posso mettere fuori i gerani? Dio, aspetterei ancora una settimana, dieci giorni prima di metterli fuori, perché queste giornate, ripeto, due giornate notturna ve li frega praticamente. Allora, ciao Germano, sono Stefania, tra un mese faccio inestare il melo come... dunque come... vabbè, che cosa posso fare perché guarisca prima, insomma, comunque sono dei tagli tra un mese oddio, ero che il melo parte tardi, però il nesto non aspetterai un mese, perché tra un mese la pianta sta già spingendo le... che è meglio farlo adesso. Eh sì, si fanno in pieno inverno quando la pianta è completamente ferma e sicuramente di solito viene fatto un taglio, un cuneo e viene innestato appunto il rametto che si è scelto, normalmente si prende una fettuccia di materiale che è il classico tubetto verde, in questo caso è una fettuccia verde, elastica che comunque si può dilatare al crescere della pianta, si stringe appunto le due parti e normalmente si mette la cera per gli innesti o la pasta per gli innesti in maniera di andare a chiudere completamente la ferita diciamo, in maniera che non si infiltri l'acqua, non marcisca, non venga attaccata dai funghi e via dicendo. Questa è la pratica dell'innesto praticamente. Io lo farei ancora oggi. Meglio farlo. Allora Stefania fallo prima. E comunque Emporio Sicurtà anche dove trovare i migliori consigli appunto come abbiamo sentito. Ci sono degli altri messaggi che le teniamo, abbiamo sentito anche a Trezisti che c'è un ascoltatore a cui si è piegata la vanga per esempio col terreno cemento che abbiamo Sì, se il terreno è troppo duro Sta piovendo ma quanto ha piovuto Dipende anche il tipo di vanga intendiamoci sono quelle vanghe che sono fatte di lamiera è chiaro che anche col terreno morbido si piegano la vanga fatta come si deve non si piega al massimo si spezza il manico è più facile si spezza il manico eventualmente più che piegarsi la vanga. Benissimo siamo in chiusura io ringrazio Germano Sicurtà del titolare dell'Emporio Sicurtà di Viarassica Lonato diamo un numero di telefono magari 030 913 05 21 Grazie Germano Sicurtà Grazie a voi buona giornata ora esatta sono le 11 e 2 minuti ora esatta in collaborazione con Mutia